per gli speciali del salotto della civetta costruire futuro un'idea di davide pelanda buongiorno a tutte e a tutti da davide pelanda caffè italia oggi leggiamo due articoli molto interessanti del carcere di roma rebibbia e leggiamo appunto da agenzie.it del 2 ottobre questo interessante articolo si è svolto per il secondo anno consecutivo presso la sezione femminile del carcere di rebibbia l'evento a rebibbia scendiamo in campo per la pace come per le più sofferte partite di calcio in tanti per due ore hanno esultato e tifato le quattro squadre dell'incontro quadrangolare ospitato all'interno delle mora del carcere romano a sfidarsi in un amichevole di calcetto e detenute dell'atletico diritti gli operatori penitenziari e i numerosi ospiti sopraggiunti per l'occasione sulle loro magliette i colori delle diverse associazioni e società sportive che insieme a prison fellowship italia onlus promotrice dell'evento si sono messi in gioco per lanciare ancora una volta un appello alla pace e l'unità dei popoli per ognuna di queste realtà tanti ex campioni e atleti olimpici dello sport a giocare in campo inoltre la squadra femminile di calcio della selezione sospe capitanata dal suo paolo d'auria nota religiosa tifosa della lazio a dare il calcio d'inizio la direttrice di rebibbia femminile la dottoressa nalia fontana che dopo aver ringraziato tutti gli ospiti presenti ha sottolineato come lo sport sia importantissimo nel trasmettere valori come l'amicizia e la lealtà ma soprattutto il rispetto della persona delle regole principi fondamentali per un percorso riabilitativo per una società sana marcella reni presidente dell'associazione prison fellowship italia ha dichiarato a margine dell'incontro l'augurio di non ritrovarci insieme il prossimo anno di vita come anche la l'eclusione sono partite importanti da giocare suor paola d'auria responsabile dell'associazione sospe ha detto conosco bene la realtà carceraria perché frequento il carcere romano maschile di regina cieli da ben 42 anni ma vedere giocare queste ragazze in campo per la pace è davvero emozionante perché rispetto all'ambiente maschile esprimono tutta la loro voglia di fare squadra di dare il meglio divertendosi e comunicando la bellezza e di stare insieme per un obiettivo comune e sempre a rebibbia questo articolo da spazio 50.org del primo ottobre di stefano liburdi dal titolo visto da dentro le notizie scritte dai detenuti con un corso di giornalismo e la pubblicazione di articoli di attualità i detenuti del penitenziario di rebibbia hanno trovato il modo di dare un senso al loro tempo dentro questa cella capisco sempre che ore sono se aprono i cancelli le 8 e 30 passa il ditto è quasi mezzogiorno e così via fino alle 20 quando richiudono le porte riconosco i giorni della settimana dei prodotti che arrivano con la spesa e da come si comportano le persone luca in un articolo uscito su quotidiano il tempo le scrive così i trascorrere dei minuti delle ore dei giorni dei mesi degli anni della sua detenzione il carcere è il luogo del tempo dove questo si misura ogni giorno ogni istante ma può essere anche un luogo senza tempo dove ci si abbandona all'ozio e l'indifferenza uno spazio temporale da far trascorrere al più presto per tornare dopo alla vita come prima che spesso purtroppo riporta in carcere la vera sfida si combatte nei penitenziari ed è dare valore al tempo dagli un significato utilizzarlo far diventare la detenzione uno spazio da riempire magari avviando un programma di reinserimento culturale e di formazione utile per progettare il futuro in carcere e fuori come detta dell'articolo 27 della nostra costituzione in quest'ottica si inserisce l'iniziativa del tempo che ha deciso di pubblicare articoli scritti dei detenuti in una pagina settimanale a loro riservata in visto da dentro gli autori degli articoli non raccontano solo la loro vita detentiva ma affrontano da una diversa prospettiva i temi che più fanno discutere l'opinione pubblica i detenuti del carcere di la bibbia nuovo complesso raccontano i principali fatti di attualità lo sguardo sul mondo di chi da quel mondo è escluso recita infatti l'introduzione della pagina così nei mesi scorsi hanno scritto di guerra il cambiamento climatico di comunicazione della nuova social card tra le famiglie bisognose di intelligenza artificiale di cinema e di sport a impreziosire la pagina le immagini dei dipinti realizzati dai ragazzi del laboratorio di pittura redibbia digital art organizzato da la ribalta centro studi enrico maria salerno gli autori degli articoli sono i detenuti che frequentano il corso di giornalismo che già da qualche anno si svolge all'interno del carcere romano un corso voluto dalla direttrice rossella santoro e da mauro pellegrini da molti anni impegnati nella formazione dei detenuti a un lavoro spendibile anche quando avranno terminato di scontare la loro pena e durante queste lezioni di giornalismo fatte di confronti sempre vivi e mai banali che nascono le idee e poi gli articoli che andranno a comporre la pagina del quotidiano passione riscatto e voglia di sentirsi parte di un qualcosa sono sempre presenti durante gli incontri di giornalismo esattamente come il familiare e tranquillizzante suono della mocca che preannuncia l'uscita dell'immancabile caffè che all'interno di queste mura sembra più buono che mai questo era l'articolo del carcere di redibbia visto da dentro detenuti che scrivono notizie appunto da dentro il carcere di roma buona giornata a tutti da davide pelanda caffè italia per gli speciali del salotto della civetta costruire futuro un'idea di davide pelanda